Care concittadine, cari concittadini, l'iniziativa Più abitazioni a prezzi accessibili, su cui voteremo il prossimo 9 febbraio, vuole promuovere la costruzione di alloggi di utilità pubblica e creare così un maggior numero di abitazioni accessibili a tutti, è quanto affermano i fautori dell'iniziativa. Consiglio federale e Parlamento raccomandano invece di respingere l'iniziativa. Vediamo per quali motivi. Negli ultimi tre anni la situazione sul mercato svizzero degli alloggi ha conosciuto profondi cambiamenti. Quando l'iniziativa è stata lanciata, la situazione era ben diversa. Il mercato era decisamente teso e l'offerta di alloggi scarseggiava. Oggi invece la percentuale di abitazioni sfitte è la più alta da diversi anni. Ciò nonostante, i fautori dell'iniziativa vorrebbero privilegiare le cooperative edilizie rispetto agli altri costruttori. Chiedono perciò che il 10% delle abitazioni di nuova edificazione sia di proprietà dei committenti di utilità pubblica. Questa percentuale è il triplo di quella odierna. Il Consiglio federale e il Parlamento dubitano che le cooperative esistenti e quelle nuove riuscirebbero in futuro a edificare così tanti alloggi. Temono invece che sarebbero i comuni, i cantoni e la Confederazione a dover intervenire, e questo a spese dei contribuenti. Poiché le cooperative stentano oggi a trovare terreni edificabili idonei, soprattutto nelle città, l'iniziativa chiede che i cantoni e i comuni abbiano un cosiddetto diritto di prelazione, cioè il diritto di essere consultati per primi su eventuali progetti di vendita. Ma questa possibilità esiste già oggi, anche se sfruttata soltanto da pochi cantoni. Sempre secondo l'iniziativa, la Confederazione dovrebbe inoltre concedere ai cantoni e ai comuni un diritto di prelazione sulla vendita dei terreni molto rari della Confederazione o delle aziende parastatali. Il problema è che un tale diritto di prelazione, una volta fissato in una legge, limita il libero mercato e penalizza i privati. L'iniziativa va respinta anche per un altro motivo. La Confederazione promuove già oggi la costruzione di abitazioni di utilità pubblica. Per farlo ha istituito un apposito fondo, il cosiddetto Fond Rulmo, dal quale vengono concessi mutui rimborsabili che fruttano interessi. Con questi fondi sono state cofinanziate dal 2003 circa 1.500 abitazioni all'anno. Il Parlamento ha già deciso di alimentare il fondo con un importo supplementare fino a 250 milioni di franchi sui prossimi dieci anni, a condizione però che l'iniziativa venga respinta. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa più abitazioni a prezzi accessibili perché convinti della validità del Fond Rulmo e degli altri argomenti appena citati.